Quando ho iniziato a guidare pensavo, ero convinta di avere comunque talento, di essere portata per farlo, ma non mi aspettavo che poi fosse così difficile, perché comunque quando entri in pista sono tutti lì col coltello tra i denti, non è facile, per cui mi sono presa conto che comunque era necessario avere costanza, avere disciplina e soprattutto creare un rapporto di fiducia estrema anche con la squadra, con la macchina e con la squadra. I gotta go, American Woman.